Non sono appenso a fare queste cose, tu lo sai ve lo manco, ti coinvolgerò, quindi suoniamo la cosina. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Siamo qui oggi per parlare di alcune cose, che sono le chitarre di Hitchwood, per quanto riguarda le gusti e le elettriche, e parlare un po' del setup che si usa sui grandi palchi, che poi alla fine sono cose che sono utili su qualsiasi palco. Come gestire il segnale? Allora quest'anno io a Sanremo gestivo soprattutto le acustiche, sempre passando da Kemper, con questo attrezzo che si chiama Ampero 2, della Hotton, che fondamentalmente è una sorta di sistema completo, dentro alla possibilità di mettere amplificatori, casse, effettistica, c'è una routing che può essere più o meno complessa, grazie al suo editor, e dicevo, soprattutto per gli strumenti acustici funziona molto bene, e ha anche, nonostante costi un quinto di quello che costa Kemper, ha delle cose che Kemper non ha. Quindi niente, non volevo parlare di questo.